Io sono la purezza. Io sono la bellezza. Io sono la potenza. Io sono la tecnologia. Io sono tutte queste cose e molto di più. Io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Senza cuore saremmo solo macchine. La nuova Alfa Romeo Giulietta oggi è l'auto compatta più sicura. Vieni a provarla anche sabato 18 e domenica 19 settembre nelle concessionarie Secar del gruppo Serratore ad Erba in Viale Prealpi e a Pescate in Via Roma.